13esimo municipio, ci troviamo ad Ostia, siamo sul lungomare in via Paolo Toscanelli, angolo via delle Repubbliche Marinare. Sono su uno splendido spazio verde a ridosso degli edifici, però lasciato in colto forse si fa manutenzione esclusivamente d'estate e in questo spazio troviamo un grande pericolo. Qui ai miei piedi c'è una centralina della CEA che è venuta giù, forse qualche vandalo gli ha dato un calcio e l'ha messa in terra. Ci sono dei cavi scoperti, sicuramente all'interno ci sarà anche dell'acqua, io non la tocco per evitare dei pericoli, per non rimanere fulminato. Questo è un problema che abbiamo notato transitando qui sul lungomare. Noi che cosa possiamo fare? Chiamiamo la Polizia Municipale, chiamiamo l'assessore di competenza e vediamo se riusciamo a far mettere in sicurezza tutta l'area. Pronta la risposta dell'amministrazione, ci ha raggiunto l'assessore ai lavori pubblici, nonché alla Polizia Municipale, Americo Olive. Assessore, questo è un bel problema. È un problema serio, tanto è vero che stiamo aspettando la CEA con la Polizia Municipale. E' purtroppo un atto vandalico e voglio invitare a tutti i cittadini, quando vedono che succedono queste cose, di segnalarlo alla Polizia, a chi vogliono, anche con telefonate anonime. Perché questo potrebbe anche essere un pericolo per i bambini. Soprattutto adesso che piove, magari se c'è una perdita di corrente, va sull'acqua e possono rimanere fulminati. È un problema serio, come diceva lei, anche per l'acqua, ma anche i bambini che potrebbero mettere le mani nella cassetta, non coscienti del pericolo che vanno incontro. Ecco, quindi ci appelliamo a tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento. Laddove trovate un pericolo del genere, sono le stesse amministrazioni che vi invitano a segnalarlo. Come abbiamo fatto noi? Non abbiamo fatto nient'altro che comunicare al municipio qual è il problema. È venuto addirittura sul posto, siamo felicissimi, l'assessore Olive, si è messo in moto immediatamente, ha chiamato la Polizia Municipale che tra poco arriverà sul posto e vediamo che cosa succede. Ed è arrivata sul posto anche la Polizia Municipale, grazie all'intervento, alla collaborazione dell'assessore Olive. Ora facciamo vedere qual è il problema e sicuramente tra poco arriverà sul posto anche la squadra che metterà in sicurezza questo pericolo. La Polizia Municipale sta mettendo del nastro per porre in sicurezza tutta l'area, guardate che bel lavoro. In attesa che arrivano i tecnici della CEA, lasciamo sul posto l'assessore Olive e noi andiamo a fare un altro servizio.